Il concerto per la pace è dedicato all'Ucraina, al conflitto in corso e vede la presenza di Yuri Janko che è il direttore e l'amministratore della filarmonica di Kharkiv. Orchestra Olimpia ha raccolto un appello di un network internazionale di artisti che era a lui dedicato, poiché fuggendo da Kharkiv ha perso la casa, il lavoro e la sua orchestra. Per questo motivo lo accogliamo qui a Pesaro e gli diamo un'orchestra. L'appello consisteva proprio nel aiutare concretamente i musicisti dandogli quello che è il loro lavoro, dandogli la possibilità di continuare ad andare avanti. Questa è anche un'occasione per mettere insieme le studentesse russe e ucraine del Conservatorio di Pesaro che si uniranno a Orchestra Olimpia. Con questo piccolo gesto noi vogliamo in qualche modo riconoscere la loro professionalità e lanciare un segno di unione per la pace. Tutto questo ovviamente sotto la direzione di un grande maestro che per la prima volta tra l'altro viene a Pesaro, quindi questo è un ulteriore motivo di orgoglio per noi. L'appuntamento ripetiamo è il 27 aprile alle 21 al Teatro Sperimentale. L'ingresso sarà devoluto sotto forma di aiuti umanitari e sotto forma di borse di studio dedicate alle studentesse del Conservatorio di Pesaro che in questo momento si trovano in difficoltà economica studentesse ucraine. Quindi è importante partecipare per dare il nostro contributo attraverso la musica per un sollievo materiale e reale.